Benvenuti a questo nuovo appuntamento per il corso di fotografia dove trattiamo l'argomento spinoso dei tempi di scatto. Il tempo di scatto è in ogni scatto, in ogni fotografia ed ha la sua importanza, quindi oltre al fatto che deve far coincidere quello che si chiama il triangolo dell'esposizione, quindi l'uso del tempo di scatto insieme a copiato, alla scelta di un diaframma e alla sensibilità del sensore. Questi tre elementi devono andare d'accordo, vuol dire che impostando un certo tempo di scatto e il suo diaframma corrispondente o perlomeno quel diaframma che è accoppiato a quel tempo di scatto ci dà nella scala dell'esposimetro lo zero, vuol dire che stiamo effettuando un'esposizione corretta, quindi per una illuminazione corretta della scena che stiamo inquadrando. Il tempo di scatto influisce molto in certe fotografie. Ho scelto non a caso un soggetto dove c'è del movimento, quindi al di là del piccolo soggetto che è, una fontanella dove l'acqua si muove e questo ci aiuterà a capire il perché di certi tempi di scatto e perché di altri. Quindi i tempi di scatto si diventano in veloci e intermedi e lenti. I tempi veloci sono in frazioni di secondo alte, quindi un duecentocinquantesimo, un cinquecentesimo, un millesimo e arrivare fino all'ottomillesimo. Cosa vuol dire? Che è velocissimo il tempo in cui l'otturatore si apre e lascia passare la luce all'interno. Se è tanto veloce vuol dire che riesce a congelare quello che stiamo vedendo e quando serve congelare, oppure quando possiamo scegliere di congelare, quando c'è un soggetto in movimento, oppure per evitare fotografie mosse. Però con i soggetti in movimento, che possono essere mezzi che si muovono, una persona che cammina, qualsiasi scena in cui abbiamo un soggetto che si sta muovendo mentre scattiamo, i tempi di scatto veloci congeleranno l'immagine. Negli scatti che stiamo vedendo, che vediamo, c'è la stessa scena fotografata diverse volte e con vari tempi di scatto per vedere in che modo il tempo scelto influisce sul congelamento o meno della situazione che si muove, dell'acqua che si muove. Quindi non è uno soltanto il tempo di scatto utilizzabile per fronteggiare una certa ripresa e proprio nel caso in cui c'è un soggetto che si muove, c'è qualcosa che si muove, potremmo voler scegliere di congelare questo movimento oppure di renderlo mosso, quindi di avere una sorta di sfocatura, di confusione che rende l'idea del movimento. Quindi avere il soggetto che non è completamente nitido, completamente stagliato, non è detto che sia un errore, anzi tante volte viene proprio sfruttato questa tecnica usando i tempi di scatto lenti per raccontare il movimento. Non è detto che sia gradevole quel che salta fuori, quindi vanno fatti i tentativi, per fortuna esiste lo schermino nelle macchine digitali dove possiamo vedere cosa stiamo combinando e quindi possiamo anche dare un'occhiata su diversi scatti e diversi tempi di esposizione per valutare quello che rende al meglio, quello che ci piace di più, quello che racconta meglio la situazione. Quindi sono partito dal cinquecentesimo, avrei potuto usare un tempo di scatto ancora più veloce e sono sceso a tempi più lenti. Ogni volta che faccio un gradino in basso, quindi dal cinquecentesimo passo a un duecentocinquantesimo, devo anche modificare il diaframma e questo sempre per far coincidere nel triangolo dell'esposizione la mia esposizione corretta, quindi quella ghiera che tutte le macchine fotografiche hanno e dove in corrispondenza dello zero otteniamo l'esposizione corretta. Cosa fare? Trovare soggetti che si muovono e fare i propri esperimenti, quindi su questi esempi che vediamo già ci possiamo rendere conto di quello che è un movimento neanche tanto veloce dello zampillo d'acqua come basta scendere di poco con i tempi di scatto che la ripresa non riesce a congelare il movimento. E avremo quindi tutte le varianti, se riusciamo a fare questa serie di accoppiate di tempo e diaframma, per valutare quale può funzionare meglio, quale può fare al caso nostro, quali varianti avere su una stessa scena e diversi tempi di scatto. Spero sia stato interessante, spero che possiate mettere in pratica e comprendere, se non avete capito potete fare domande e scriverle sotto, vi ricordo il vostro mi piace se vi è piaciuto il tutorial e vi ricordo anche che ci sono una quantità infinita di tutorial a disposizione, tutti elencati e linkati nella descrizione sotto al video. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.